In tempi remoti la terra venne quasi distrutta, non dall'uomo ma dagli dèi del cielo. Sette mistici si equalizzarono per combattere gli invasori e crearono le sfere del drago. I segni premonitori sono apparsi di nuovo. Il male è tornato. È solo un guerriero prescelto. Hai il potere di debellare questa minaccia. Non sono pronto. Tu sei l'unico che lo può fare. Con questa sfera del drago avrò la mia vendetta. Contro la terra. Dobbiamo trovare le sfere del drago prima dell'eclissima. Vado. Aspetta, andremo insieme. Forte. Prossimamente, la battaglia per difendere il mondo. Chi sei? Avrà inizio. Prossimamente, la battaglia per difendere il mondo. Perfetto. Qu'è? Vado. 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 DRAGON BALL EVOLUTION Avanti